Un tavolo dei sindaci a sostegno del comparto Bufalino e Zootecnico, promosso dal primo cittadino di Capaccio Pestum. La prima riunione in programma per oggi pomeriggio. Al centro della discussione, gli effetti della normativa comunitaria in materia di spandimento dei reflui zootecnici e le opportunità offerte dal programma straordinario di azione delle zone vulnerabili ai nitrati, promosso dalla Regione Campania. Nell'aprile del 2019 la Regione Campania ha avviato il programma straordinario di azione delle zone vulnerabili ai nitrati, uno strumento a supporto del comparto Bufalino che consentirà presto alle aziende campane e di settore di dotarsi di una moderna impiantistica per lo smaltimento dei reflui, con l'obiettivo di conciliare innovazione e salvaguardia ambientale. Obiettivo strategico dell'azione, favorire la creazione di impianti collettivi sul modello di quelli che nel bacino padano trattano già quasi il 70% dei reflui producendo energia e compost, un'opportunità concreta e di grande interesse che porta però con sé anche alcune questioni da non sottovalutare. In attuazione della normativa comunitaria di settore, con l'entrata in vigore del programma straordinario, le aziende bufaline insediate in aree vulnerabili ai nitrati si troveranno ad affrontare nuovi problemi di tipo tecnico ed organizzativo, come spiega il sindaco di Capaccio Pessumo, Franco Alfieri, che in veste di delegato all'agricoltura della regione Campania, ha promosso l'avvio del programma straordinario. La più recente riperimetrazione delle zone vulnerabili ha di fatto raddoppiato la superficie interessata, portandola da 158.000 a 316.000 ettari. Nei fatti, questo significa che molti allevamenti bufalini della Piana del Sile avranno presto bisogno di reperire superfici agricole idonee allo spandimento dei reflui zootecnici, trovandosi ad affrontare difficoltà che potrebbero anche essere di non semplice soluzione, con il rischio, fra l'altro, che tutto ciò finisca per ostacolare un utilizzo ottimale delle importanti risorse finanziarie messe a disposizione della regione Campania attraverso il programma straordinario. Per affiancare le imprese della filiera bufalina in questo delicato passaggio, il sindaco Alfieri si è fatto promotore di un tavolo istituzionale al quale sono stati invitati i sindaci dei comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla, Silentina, Eboli, Giungano e Serre. La prima riunione è prevista per le ore 15 di oggi, giovedì 6 febbraio, presso la casa comunale di Capaccio Pestum, a Capaccio Capoluogo. Abbiamo il dovere, commenta ancora il sindaco Alfieri, di impegnarci nel trovare soluzioni che sempre a partire dalla salvaguardia ambientale garantiscano equilibrio fra zootecnia e turismo. due pilastri fondamentali dell'economia locale. Personalmente ho già provveduto a richiedere alla regione Campania una proroga dei nuovi adempimenti a carico delle aziende, almeno per questa fase che precede l'avvio operativo del programma straordinario.